Questo è un incontro che avviene con i vertici dell'amministrazione comunale e anche con il Presidente della Regione. Ce n'era stato uno di recente. Da quel giorno ad oggi cosa cambia e soprattutto cosa continuerete a chiedere? Continueremo a chiedere una conciliazione di questa vertenza attraverso il riconoscimento spontaneo della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di quei lavoratori che hanno titolo e diritto per potersi vedere riconosciuta questa soluzione conciliativa. Non presenteranno oggi delle offerte secondo voi? Dovranno dirci sì o no rispetto alla percorribilità della soluzione che noi abbiamo prospettato. Resta fermo la volontà di andare avanti nel caso in cui le vostre richieste non fossero accontentate? Direi proprio di sì. Dovesse risolversi con nulla di fatto. Noi siamo pronti a coltivare ulteriori iniziative giudiziali che già abbiamo promosso. I lavoratori lamentano la situazione di aver lavorato diversi anni in una situazione di somministrazione di lavoro e hanno maturato il diritto alla conversione del contratto a tempo indeterminato. Questo è stato richiesto in sede giudiziale. Già per uno di loro è stata ottenuta una sentenza positiva come sappiamo. e adesso chiediamo all'attiva e alla pubblica amministrazione di poter operare la conversione di questi contratti a tempo indeterminato. Quanti sono i lavoratori dei quali oggi si discuterà? Conto più o meno dovrebbero essere circa 59-60 dei lavoratori che hanno diritto alla conversione e che chiaramente se non dovesse esserci una soluzione positiva in questa sede lo troveranno a nostro parere in sede giudiziaria.